Molte volte non riesco a fare quello che voglio, altre invece riesco. Oggi fortunatamente ho segnato il gol vittoria, un gol che ci voleva perché effettivamente non stavamo segnando molto gli attaccanti, quindi sono veramente contento. Un gol che mantiene il punticino di vantaggio su Monza, visto che i bianzoni hanno sbancato il terreno di Bozzano. Sì, sono contento, è un gol ancora più importante perché il Monza è ancora lì, non ci molla e quindi sono ancora più felice per aver portato a casa questi tre punti. Il Monza è una buona squadra, ci abbiamo giocato domenica scorsa e io sono sicuro che ci verrà stile da torcere fino alla fine del campionato, però noi siamo pronti ad affrontare ogni cara come l'abbiamo affrontato oggi e secondo me possiamo dire la nostra fino all'ultimo. Eravamo partiti benissimo con una partenza davvero a razzo della potenza, subito l'incrocio dei pali, un'altra occasione, poi nella ripresa cosa è successo? Beh, naturalmente ci ha fatto sentire anche il caldo, siamo partiti bene come hai detto tu, purtroppo la palla lì sull'incrocio non è entrata, poi un gol annullato anche a ferro. Poi è naturale, ripeto, il caldo che ha fatto sentire, eravamo un po' stanchi, ci siamo allungati, però non abbiamo ammollato, abbiamo lottato su ogni pallone, alla fine è andata bene. Abbiamo detto dei numeri, il quattordicesimo gol stagionale della Paganese, sempre l'ultimissimo attacco del campionato, però è una Paganese che per la predisposizione anche tattica, vuole che proprio anche gli attaccanti tornino a dare una mano, a volte si cambia e si porta la croce, non si riesce a essere poi lucidi di davanti, a essere cattivi. Sì, sì, questo è evidente, perché comunque sia, non è che stiamo così in tante occasioni, però non prendiamo gol ormai da cinque partite, siamo compatti, lottiamo anche noi attaccanti fino alla nostra di rigore. Una Paganese messa bene in campo, che dà tutto l'uno per l'altro, fa naturale che è difficile molte volte ripartire, mettere in difficoltà gli altri, però noi ci proviamo e sicuramente non è facile fare i gol magari che fanno gli altri compagni.